Magherita, Gaudia, insomma, Meglia di Quattino poteva cominciare per romadiare? Beh, sì, sicuramente abbiamo fatto un grande forno e siamo contenti di essere qui a Roma e speriamo di continuare così già. Ma qual è l'emozione di giocare in campo così? Beh, bellissimo, soprattutto perché comunque alla fine sta arrivando gente di nuovo su questo spazio. Abbiamo passato due anni terribili per fare del Covid e spero, insomma, che venga a sé proficienza a vedere. In questo momento voi siete la propria loro del team italiano, diciamo, e non stiamo a pulire in maniera contro il team. Beh, sicuramente ci sentiremo di fare del nostro meglio e di confermare il gioco che stiamo scrivendo negli ultimi torni che abbiamo fatto e giocando così sappiamo che abbiamo delle grandi potenzialità e speriamo che sia un'emozione da loro e di ragazza di più. E' un'altra domanda che si sa sull'occhio della comunità partiziale, ma nel mondo è un'emozione di 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 un'emozione. Grazie a tutti!